Siamo con uno dei tanti ex di turno di questa partita, Jacopo Massari, partita per larghi tratti equilibrata, poi Fei e Marshall hanno fatto la differenza. Sì, direi una partita equilibrata, è stata decisa da due o tre situazioni, sicuramente la nostra difficoltà è stata uscire da qualche rotazione dove c'erano i loro migliori battitori, come è successo anche nel terzo set con la battuta di Fei, peccato perché sia il primo che il terzo avevamo due belle occasioni, siamo stati bravi il secondo a vincerlo, secondo me facendo un gran set, poi loro sono cresciuti nella fase muro difesa e ci hanno messo un po' in difficoltà, quindi penso che questa sia l'analisi. Secondo te, nell'analisi globale della partita relativamente solo alla battuta, potevate forse in qualche frangente magari, tra virgolette, rischiare di meno con la battuta al salto e magari mettere in difficoltà più con la flotte? Può aver inciso questo aspetto secondo te? No, penso che avevamo studiato di fare varie azioni, così abbiamo fatto, sicuramente qualche accelerazione c'è stata, magari qualche errore, però abbiamo visto che in certe situazioni non forzare la battuta o magari andare troppo col flottante poteva dargli ritmo e quindi invece abbiamo alternato per cercare di creare difficoltà. Sicuramente più che quello è stato il fatto che loro abbiano fatto due o tre break importanti e magari sui nostri battuti loro siano usciti in maniera molto veloce. Ora il calendario non dà respiro, Padova, poi Monza-Castellana-Grotte, come dire, situazione difficilissima, però c'è ancora la possibilità per fare unione, per fare squadra, per ripartire? Sicuramente il campionato italiano è questo, cioè si gioca ogni tre giorni, non ci dà tanto margine di lavoro, ma poi penso che noi in questa partita siamo cresciuti, adesso dobbiamo magari trovare più continuità durante il set. La squadra c'è, il gruppo c'è, non è che bisogna creare squadra o gruppo, bisogna secondo me, come ho detto prima, nei momenti dove ci si incastra in due o tre situazioni bisogna uscire in maniera rapida, perché altrimenti se si lasciano dei battitori in battuta per tanto tempo, non male che poi facciano anche la differenza. Grazie a Jacopo Massari, l'augurio di un in bocca al lupo per la prossima partita a Padova. Sì, penso che Padova sarà una partita molto difficile, è una squadra che sta andando molto bene, è un gioco che sta funzionando, sono in alto in classifica, ma noi penso che dobbiamo guardare sempre di più a noi stessi, perché è quello che è mancato magari in precedenza, noi ci siamo, stiamo crescendo, ovviamente non c'è tanto tempo, quindi dopo nove sconfitte dobbiamo cercare di una svolta, sicuramente. Grazie a Jacopo Massari. Grazie a voi.